Sono Luigi Chianese, sono un medico cardiologo e ho deciso di candidarmi per dare al Paese innanzitutto un volto nuovo, che sia diverso rispetto ai volti che si sono visti in passato e poi per dare un contributo alla cittadinanza, ai miei compaesani che tanto mi hanno dato già in passato delle dimostrazioni di stima e di affetto e ho voluto ricambiare in questo modo. Ovviamente il mio impegno è principalmente volto alla salute dei compaesani e quindi immagino la prevenzione fatta sul territorio, immagino che ci sia una prevenzione fatta fin dall'età scolare, fin dalle scuole dell'infanzia, in modo da contribuire a migliorare lo stile di vita e questa prevenzione che poi deve essere protatta nel tempo fino ad arrivare anche all'età più avanzata. Come mai ha scelto Pagano tra i candidati sindaco? Pagano è stato sinceramente una persona di riferimento già nel passato e quindi un volto comunque giovane, un volto nuovo che comunque è amato dai compaesani e quindi mi sembrava una figura importante e comunque di riferimento per poter portare avanti questo progetto.